Una mini stagione teatrale estiva, dieci appuntamenti in tutto, ma visti i tempi non v'è certo da lamentarsi, anzi, presentato ufficialmente a Termoli il cartellone degli eventi in programma al Teatro Verde. La scelta della location praticamente obbligata, visto che quella struttura all'aperto nel parco comunale è la più idonea al rispetto delle normative anti-covid. Anche quest'anno la gestione dell'anfiteatro affidata alla Frentania Teatri, la novità legata al coinvolgimento nella organizzazione degli eventi di associazioni del territorio. La direzione artistica, curata da Gian Domenico Sale, proprio lui collegato via internet, è intervenuto nell'ambito della conferenza stampa nella sala consigliare della città adriatica per illustrare gli spettacoli in programma dal 7 al 28 di agosto. Il sipario si alzerà all'insegna delle novelle per un anno di Pirandello, protagonista l'attore Andrea Ortis. Il 9 spazio alla termolesità, con una serata dedicata alla poesia in vernacolo. Il giorno seguente sarà invece animato dal cabaret, con uno spettacolo dedicato alle famiglie. Il 12 ritorna il teatro con lo spettacolo Cronaca di famiglia. Anche il 14 sarà, è proprio il caso di dire, spettacolare. Il teatro ospiterà la finale regionale del concorso Venere d'Italia, cui seguirà il concerto tributo a Ennio Morricone. Il post-ferragosto avrà in cartellone la musica neomelodica e quella di tutt'altro genere del gruppo Chorando Brasil. Il 18 agosto spazio al Vincenzo Cuoco, l'uomo del futuro del regista molisano Simone D'Angelo. La sera del 19 sarà invece dedicata al Cantico dei Cantici, diretto dal maestro Ugo Ciarfeo e con Antonietta Finocchi. Gran finale il 28 agosto con la notatrice romana Nathalie Caldonazzo. porterà sul palcoscenico lo spettacolo Passo a Due. Sarà possibile informarsi circa gli eventi in programma giorno per giorno, grazie ad una app messa a punto dalla struttura comunale. A illustrare la novità, sempre nel corso della presentazione, l'assessore al turismo e alla cultura Michele Barile. La web app è un sistema che praticamente ci permetterà, o meglio, permetterà agli utenti attraverso un QR code di vedere giornalmente quelle che sono le attività che sono in programmazione nell'arco di quella giornata. L'obiettivo qual era? L'obiettivo è quello di offrire sempre un servizio più comodo possibile per l'utente. Il cartaceo, sì, lo strumento che è stato utilizzato fino ad oggi va bene, per l'amor di Dio, però comunque è bene trovare ulteriori strumenti che permettano quindi agli utenti di collegarsi direttamente attraverso i propri smartphone o comunque i propri dispositivi tablet, quelli che ognuno ha a propria disposizione, per poter vedere giornalmente quelle che sono le attività che si svolgono nella cittadina termolese.